Fondazione Emanuele Scifo, oggi un'altra giornata importante. Che cosa succede? Sì, un'altra bellissima manifestazione di quanto le grandi associazioni sanno stare vicino ai ragazzi. Abbiamo con noi i due presidenti dei Lions territoriali che ci illustreranno questa iniziativa, questa voglia di continuare a regalare sorrisi. Quindi passiamo la parola al presidente Schiavone che ci illustrerà un po' l'iniziativa. Buonasera a tutti, sono Roberto Schiavone Favignana, presidente dell'Io Club Pontecagnano Faiano Pierluigi Schiavone. Inoltre sono anche il presidente di Universo Humanitas dove la Fondazione Sifo aderisce. E in ambito di questo progetto insieme stiamo costruendo tante attività insieme con i Lions, con il club Areichi, dove avremo il presidente del club Areichi. E un piccolo gesto, regaleremo un TV 50 pollice per fare in modo che questi bambini nel tempo libero possano vedere i cartoni animati, le cose che gli piacciono vedere. Diciamo che è un piccolo gesto, ma sono tutte queste piccole cose che poi alla fine fanno andare avanti il volontariato e l'attività sociale che fa la fondazione. Io sono invece il presidente del club Salerno Areichi e quindi tramite, perché noi abbiamo il club nascente, che è il Pontecagnano Faiano, che abbiamo fatto nascere noi come Lions. E quindi grazie a lui e alla sua conoscenza sul territorio, noi conosciamo questa realtà dove effettivamente possiamo dare un segno di tangibilità per essere vicini al presidente e ai bambini, insomma, che in qualche modo possono essere alletati. E per concludere? E per concludere mi rifaccio alle parole del presidente Schiavone. Una piccola cosa. Madre Teresa parlava di piccole gocce. Questo è effettivamente fare del bene. Grazie.